Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati nel canale YouTube di Gtech 2020. Dost'oggi parleremo di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i due device più desiderati del momento, ma anche nella maniera più assoluta più difficili da reperire. Non si trovano, ragazzi. Anche per chi vuole acquistarli per Natale, sta diventando veramente un problema appunto di trovarli e portarsi da casa. Cercheremo adesso di capire perché è così lunga quest'anno l'attesa per i modelli top, poi i Pro e soprattutto di iPhone e anche dove sono gli intoppi e soprattutto quando riusciremo a davvero in tempi brevi, ragazzi. Ma adesso parliamo con la sigla poi dentro alle problematiche di iPhone 14 Pro. Provate, ragazzi, ad andare nello store di Amazon e gitate iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Sì, spedizioni gratuite per i membri Brian, ma non ci sono disponibilità. Sono andato su Meleware Online tramite l'iPhone e non ci sono disponibilità. Addirittura nello store di 1€ non sono nemmeno a catalogo. Questo significa che i tempi di attesa sono lunghi, molto, molto lunghi. E ragazzi, siamo ormai a ridosso del Natale. Dunque, i motivi per cui si è creato questo collo di bottiglia sono 3-4. Adesso andremo ad analizzare uno per uno e, ragazzi, lo dico già, pazienza. Ci vuole tanta, tanta pazienza. Il primo elemento, ragazzi, è rappresentato da un errore di programmazione di Apple in chiave proprio di quantificazione delle singolità produttive dei vari modelli. Perché? Perché negli anni passati circa il 60% delle vendite è rappresentato da due modelli lisci, il normale e il mini. Quest'anno, invece, è stato esattamente l'opposto. Perché? Perché Apple ha iniziato ad effettuare una divisione importante tra il 14 e il 14 Plus e i due modelli Pro. Nel senso che è stato mantenuto sostanzialmente l'hardware degli anni precedenti. Cioè, stesso processore dell'iPhone 13, stessa scocca, stessa batteria, stesso display, insomma, tantissime le differenze, compreso anche il notch, rispetto ai due modelli Pro. Però, qual è stato il problema? Che i prezzi sono globalmente aumentati. Sia del liscio, il Plus è poi uscito, secondo me, da un prezzo assolutamente fuori testa. È aumentato anche il Pro e il Pro Max. Ma come sono aumentati? Certo che lasciare in produzione un 13 e un 12 e proporre un 14, ripeto, perché l'unica differenza sono sostanzialmente il sensore anteriore e i pixel interni al sensore sopra. I 1000 euro, logicamente, ha dato qualche un'inchiodata alle rendite. Perché? Perché considerando che il modello Plus costa quasi 1200 euro, è chiaro che molti degli utenti hanno detto, ragazzi, io vado sul 14 Pro, perché per poca differenza voglio il top. Quando devo spendere 1200-1300 euro, voglio il top. A livello fotografico, a livello display, a livello anche di nuove features, come ad esempio la Dynamic Island, oppure anche l'Olivison Display, che sono prerogative fondamentali, e non cito alcune, dei modelli Pro. Questo, logicamente, ha favorito una domanda molto più alta rispetto agli anni precedenti dei due modelli top di gamma e, ragazzi, si è creato il primo in buto. Adesso andiamo, però, ragazzi, a capire perché, dal mio punto di vista, Apple è stata anche indotta a sottostimare un pochettino le vendite dei due modelli Pro. Dunque, la chiave di volta, dal mio punto di vista, sono stati i chip. Qualcuno, anzi, molti che non hanno in simpatia di Apple, io, ragazzi, non è né simpatica per me l'antipatica, lo dico subito, infatti ho iPhone 14 Pro. Molti hanno pensato che Apple volesse speculare sulla questione dei processori, e, per tanto, dicono, ha alzato il prezzo dei 14, dei 14+, mantenendo il processore dell'anno scorso, anche se con una GPU leggermente, diciamo, rivista e potenziata. La verità, ragazzi, è che è determinante in questo campo il fattore TSMC. Sì, ragazzi, lo chiamo il fattore TSMC perché, ah, TSMC, ragazzi, ha alzato in maniera impressionante i prezzi dei processori a tutti i suoi clienti, a tutti i suoi utenti, compresa Apple. E, ragazzi, attenzione, ci sarà un altro aumento adesso nel 2023 per i professori stampati da TSMC, anche, appunto, per la casa della mela ammorsicata. Pertanto, siccome poi molti utenti si sono spostati dalle fornire di Samsung a quelle di TSMC, tra cui Nvidia e Qualcomm, per i propri processori top di gamma, è chiaro che le catene di TSMC si sono ingolfate e hanno avuto un, sicuramente, stop, limite produttivo per i nuovi chip a 16 Bayoni che, pertanto, Apple si è trovata, appunto, una quantità insufficiente di chip per essere, diciamo, importati sia all'interno dei 14 Pro, ma anche dei 14 10, dei 14 Plus. Pertanto, la scelta è stata quella di confermare, nei due modelli più economici, appunto, il processore dell'anno scorso. Procedamente non c'è stata una grande, diciamo, contentezza e felicità da parte degli utenti che, a questo punto, ripeto, dato l'aumento dei prezzi che Apple ha imposto al mercato, logicamente si sono riversati nei due modelli Pro. Il terzo punto, vedi, è la famosa tempesta perfetta, dove si vanno ad incrociare il Covid, le rigidità del governo cinese e, purtroppo, il fattore Foxconn. Dopo il TSMC c'è anche un altro fattore, il Foxconn, che è la mega azienda che, di fatto, assembla il 90-95% degli iPhone prodotti a livello mondiale. Pensate, ragazzi, un mega polo produttivo a Zenzou di 300.000 lavoratori che assemblano gli iPhone. Una cosa impressionante, una megalopoli dentro ad un'azienda che, praticamente, ha scontato un sacco di disordini sociali e di casino. Perché? Perché il Covid in Cina sta tornando a mordere. Per carità, non è nemmeno, penso, al 30% di quello che sanno con l'Italia e il rapporto alla popolazione, ma sappiamo che il governo cinese è molto, molto rigido nella gestione, appunto, Covid. Pertanto, ha riattivato una serie di lockdown settoriali nei vari settori specifici di cui rientrano anche, appunto, le fabbriche Foxconn che assemblano gli iPhone e questo, logicamente, ha creato un rallentamento a livello produttivo. Poi, cosa è successo? Che Foxconn, per continuare comunque a garantire un livello produttivo accettabile, magari non incorrere anche in penali, che ne so, o non vedere calare i propri uti, ha costretto i lavoratori a dormire nell'azienda facendo una distinzione tra i malati positivi e, invece, quelli che stavano bene. In realtà, le situazioni non sono proprio andate così perché è stato un grandissimo caos, disordini sociali, proteste, fughe di massa durate più di un mese e i nuovi assunti che dovevano sostituire, appunto, quelli che se ne erano andati, che ne hanno trovato. I premi produttivi non pagati per un'assunzione volante. Situazioni sociali, ma anche sotto aspetto sanitario non accettabili, ulteriori disordini, ulteriore caos, ragazzi, con un quasi blocco della produzione. Si stima che tra i modelli pro e pro max ci sia stato un buco di 6 milioni di pezzi solo entro fine 2022. Pertanto, mettiamo, governo cinese con un lockdown, Covid che ritorna a mordere, Foxconn che è andata in difficoltà perché, logicamente, le condizioni che ha costretto a lavorare per operare sono state inaccettabili. Disastro. Ora, le previsioni non è che siano il massimo, ragazzi. Parliamo che ancora le difficoltà di reperire iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max ci stanno ancora almeno fino a febbraio-marzo di 2023. Perché parlo di 14 Pro e di 14 Pro Max? Perché se qualcuno invece cerca un iPhone 14 liscio o un iPhone 14 Plus, ragazzi, ve lo tirano sulla schiena. Sono ovunque. Ma questo potrebbe anche rappresentare un vantaggio. Perché? Perché se avete voglia e pazienza di aspettare, dal mio punto di vista, un 14 liscio, un 14 Plus, da qui a poco sarà acquistabile, ragazzi, con tanto, tanto sconto. Perché? Perché i magazzini sono pieni. I fornitori di negozi, dei centri commerciali, gli Apple Store, i Medestore, quelli che volete, sono pieni di iPhone 14 e di iPhone 14 Plus. Pertanto sono straconvinto che da inizio del 2023 ci sarà un crollo del prezzo perché comunque devono smaltirli. Non so, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video. Se avete voglia di acquistare un 14 Pro, se avete preso un 14, se avete un 14 Pro Max, ci sono tutte queste difficoltà di reperire. Non vorrei essere veramente pessimista. Ma le notizie che ci arrivano, perché abbiamo anche un blog, ragazzi, a gtech2020.com sono che anche, ripeto, per i primi due o tre mesi del 2023 ci saranno difficoltà nel reperire i due modelli Pro. Ragazzi, spero per voi che logicamente siano informazioni sbagliate che riuscirete ad avergli in mano il prima possibile. Ci vediamo, ragazzi, al prossimo video di Gtech 2020. Un saluto da Gianluca e dal suo iPhone 14 Pro. Ciao, ciao! Ciao!